Immagina di essere in un piccolo aeroplano e la turbolenza si fa intensa. Il pilota ti ordina di metterti immediatamente il paracadute perché in qualche momento ti potrebbe venire detto di saltare giù. Accade il peggio, l'aeroplano si incendia, tu salti, il paracadute si apre e tu arrivi a toccare terra. Ma qualcuno non ha preso seriamente l'istruzione del pilota e non si è messo il paracadute in tempo e sono morti. Voi siete in Cristo Gesù, la Bibbia, Primo Corinzi 1.30. La parola greca in, utilizzata qui nell'originale, significa dentro dal dentro. Quando credi nel Signore Gesù Cristo, tu divieni unito con la sua persona, come qualcuno che è legato per la vita ad un paracadute. Essere in Cristo, unito a Lui, è essenziale perché Dio ti vede attraverso di Lui. Confida nel Signore Gesù, proprio come metteresti la tua fiducia nel paracadute mentre salti da un aereo. E poi, anche se non lo senti, credi per fede che tu sei in Cristo Gesù. Essere in Cristo significa condividere tutto quello che Lui ha fatto. Significa che, come credente, occupi una nuova posizione agli occhi di Dio. Caro amico, siccome sei suo figlio, Lui ti dà vita e vita eterna.